Pensavano di non essere visti e invece una telecamera di videosorveglianza li ha ripresi mentre agivano indisturbati al Maschenà Damas, un bar sulla spiaggia di Pesero vicino ai Bagnigessi. I malviventi, almeno due molto giovani, hanno scavalcato il cancello nella notte tra sabato e domenica e poco prima del luna sono entrati per rubare alcolici e superalcolici. A sparire sono stati soprattutto rum, vodka e amari per un valore di circa 600 euro. La telecamera, collocata sul retro del locale, li ha ripresi a lungo mentre setacciavano frigoriferi e scaffali alla ricerca di alcolici. Dalle immagini fornite dalla titolare del locale si vedono mentre camminano con calma lungo un corridoio, soffermandosi con attenzione all'interno del frigo. Rabbia e sgomento da parte della proprietaria del bar, Deborah Gabucci, che ha già denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Hanno frugato, aperto frigoriferi, congelatori, come se fosse la casa loro. Per un valore di? Per un valore di circa 600 euro. Ma al di là del valore economico è più la rabbia e il fastidio per il fatto che si permettano di entrare e di fare, insomma, non so, come se fosse la casa loro. C'erano delle telecamere di video? Sì, loro probabilmente sono venuti durante il giorno e hanno visto la telecamera che noi abbiamo lì davanti al bar. Pensando di evadere e di eludere quella si sono accucciati e poi hanno girato dietro, mentre poi dietro sono stati ripresi dalla telecamera di sicurezza dell'istituto Vigilar che ci segue per queste cose. Questi giovani sono stati identificati? Avete avuto notizie? Noi abbiamo fatto la denuncia, adesso sta facendo il percorso, insomma, quello classico e se verranno poi identificati e riconosciuti, questo ancora io non lo so. Oltre al fatto che hanno rubato, diciamo, c'è stato anche qualche danno? No, danni non ne hanno fatti, non hanno fatto nessun danno, hanno solo frugato e guardato ovunque, sembrava che stessero facendo una passeggiata, non lo so, in un museo, si guardavano in giro, come sì. Incuranti, insomma. Assolutamente, proprio meno freghisti e incuranti di tutto. Quindi tanta rabbia, soprattutto. Sì, rabbia perché siamo all'inizio della stagione, se iniziamo così direi che insomma non abbiamo iniziato bene, no.